Nasce dalle risultanze dell'operazione Apocalisse e ci ha portato a disvelare la rete di rapporti che riguardano due mandamenti mafiosi in particolare, quello di Resuttana e quello di Portanuova. Ha portato quindi a disvelare una serie di episodi delittuosi che riguardano in particolare due principali soggetti che sono Corona Giuseppe e Favaloro Raffaele. In relazione a questi soggetti sono state accertate condotte che consistono da una parte nell'esercizio di reati quali le estorsioni e quindi il traffico di sostanze stupefacenti, dall'altra invece sono stati accertati traffici di metalli preziosi finalizzati a ripulire questo materiale al fine di procurare la liquidità necessaria per arricchire le casse dei clan e utilizzare questi soldi per sostenere le famiglie dei pentiti e in qualche caso sostenere figure apicali della criminalità organizzata. Corona emerge quale soggetto che si occupava di individuare i soggetti prestanome a cui intestare ditte individuali o quote societari ma emerge anche come soggetto che curava i rapporti con gli altri clan, non a caso sono emersi i rapporti con lo stesso Favaloro e anche con altri elementi di spicco degli altri mandamenti. Favaloro invece si dedicava al traffico di metalli preziosi e attraverso una rete di comprooro consentiva al clan di ripulire questo materiale e poi destinarlo una volta ripulito o alla vendita quindi nel mercato nero oppure quindi veniva utilizzato per venduto quindi in questi negozi di comprooro. E' stato poi anche accertato l'utilizzo del Monte dei Pegni da parte del clan in quanto alcuni esponenti tra quelli con cui abbiamo svolto indagini è emerso che hanno inviato delle teste di legno presso questo Monte dei Pegni al fine di vendere del materiale usato che poi veniva venduto quindi dal Monte dei Pegni ad altri soggetti inviati sempre dalla criminalità organizzata ottenendo così un materiale che veniva non solo ripulito ma anche oggetto di una certificazione di legittimità per essere stato venduto dal Monte dei Pegni. Qui i militari del nucleo valutario hanno compiuto un lavoro di tutta eccellenza un grande sforzo investigativo che testimonia l'importanza del conoscere e poi recidere quelli che sono i collegamenti della mafia rispetto al territorio non si può permettere alla criminalità di controllare attività economiche esigere il pizzo, reinvestire le somme che derivano da queste attività in altre attività commerciali gonfiando quelli che sono i serbatoi delle proprie risorse noi dobbiamo intervenire su questo in modo drastico abbiamo ricostruito sotto questo profilo i flussi finanziari che testimoniano queste convergenze hanno aggredito alcuni canali vulnerabili che sono le attività economiche che più si prestano a queste forme di riciclaggio del denaro ovvero di proventi illeciti come quello delle attività di gioco delle scommesse ovvero delle attività economiche nel settore dei metalli preziosi, dell'oro, la catena dei compro oro qui si è potuto riscontrare esattamente il metodo con cui si rinvestono i proventi di queste attività illegali finiscono in investimenti commerciali, finiscono in attività di ristorazione, di impresa e di immobili noi abbiamo questo obiettivo che poi è trasversale a tutte le forme di controllo malavitoso del territorio che è quello di sequestrare i beni e mettere a reparo l'economia legale da questa attività di investimento illecito Grazie a tutti